Alessandro Vanoli, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuto, anzi bentornato, qui nel posto delle parole per raccontare questa volta un libro pubblicato da UTET per i Dialoghi di Pistoia, il libro intitolato Altri orizzonti, camminare, conoscere e scoprire. Gli autori sono Marco Aime, Duccio Demetrio, Adriano Favole, Vera Geno, Marco Vannini e Alessandro Vanoli. Sono tre i verbi, come ho letto poco fa, camminare, conoscere e scoprire e in questa coniugazione dei tre verbi noi ci addentriamo, seppure nella brevità di questa conversazione per scoprire questo libro di circa 100 pagine. Ricordo i nostri ascoltatori che Alessandro Vanoli è storico, scrittore, ha insegnato all'Università di Bologna e alla Statale di Milano specializzandosi sulla storia del Mediterraneo e la presenza islamica in Spagna e Sicilia. Collabora con Rai Radio 3 e con Il Corriere della Sera. Il suo ultimo libro scritto, Alessandro Vanoli, qual è? Dunque, il mio ultimissimo libro in realtà sta per uscire, uscirà tra pochissimi giorni ed è un corposo volume che uscirà per la terza dal titolo Storia del Mare. Un titolo a di poco ambiziosetto, ma tutto sommato un titolo che ho amato particolarmente e in fondo molto in scia con quello che faccio da una vita. Altri orizzonti, anche sulla scia di questo libro. La storia del mare non può essere altro che cercare altri nuovi orizzonti. E' esattamente questo. Ed è in fondo in questo senso che l'ho scritto, forse ha molto a che vedere anche con le parole, le poche parole che invece ho dedicato al tema più generale di altri orizzonti in questo volume pieno di amici anche, tra l'altro, e pubblicato per Utre. Eh sì, perché lei, dice bene Alessandro Vanoli, è pieno di amici, perché il viaggio d'altra parte si fa con chi si sta bene, no? E un viaggio è un appartenere non solo a un luogo geografico, ma un appartenere anche a un gruppo di persone più o meno grande con le quali star bene. Il viaggio che abbiamo intrapreso leggendo altri orizzonti è proprio un viaggio che ci porta a modificare lo sguardo soprattutto. E questo credo che sia molto importante. Che ne dice? Sì, il punto di partenza era anche il punto di partenza della mia riflessione, però credo il punto di partenza per qualsiasi considerazione sul viaggio forse può essere proprio questo. E cioè, in fondo, è una condizione che ci appartiene probabilmente da quando sono usciti dagli alberi, insomma da qualche milione di anni fa, il fatto che siamo caratterizzati dalla necessità di superare l'orizzonte che ci preclude lo sguardo, sia il mare, sia delle montagne. Quel tipo di sfida ce la siamo portati dietro e quel tipo di sfida porta con sé proprio questo, cioè il verificare che cosa c'è dall'altra parte. Verificando cosa c'è dall'altra parte, verificare ciò in cui noi crediamo, ciò che ci siamo immaginati. E credo che sia così che siamo diventati, non dico migliori, ma perlomeno un po' più complessi. Migliori forse è una parola sbagliata, considerando in che stato stiamo. A volte complessi, ma soprattutto a volte anche complicati, e questo è un altro significato. Ma Alessandro Vanoli, mentre lei raccontava, ho aperto a caso, e mi sono imbattuto in una sottolineatura che vorrei condividere, nel viaggio insieme con Marco Haim, e ciò che fa meditare, scrive Marco Haim, è il terribile impoverimento della nostra civiltà, che appare, se metti di fronte un nero e un bianco, entrambi di culturale e media nel loro contesto. Ecco, quello che fa meditare è l'impoverimento della nostra civiltà. E che cosa ne dice lei di questo impoverimento? Oggi soprattutto, se non è un impoverimento della civiltà oggi, che la parola occidente e la parola oriente hanno dei valori forse che abbiamo perso. Guardi, qui il discorso rischia di diventare un ginepraio, a parte il fatto che non mi permetto di valutare, perlomeno, le parole di Marco, ma non perché non le apprezzi tutt'altro, ma perché c'è sempre una certa distanza di metodo tra uno come me, che è uno storico, e un antropologo come lui. Dal punto di vista del sottoscritto, la cosa è leggermente diversa. Io non credo, francamente, che noi rispetto a un ipotetico passato ci si sia impoveriti davvero. Cioè, la banalizzazione di ciò che abbiamo di fronte è vecchia pratica, per la verità. Il nostro presente, che non è un gran bel presente, obiettivamente, però fortunatamente è complesso. Noi abbiamo imparato tante cose in questi anni. Vorrei spezzare una lancia per la miseria che abbiamo, tutto sommato, e per la qualità, talvolta, della miseria che abbiamo. Noi abbiamo affrontato nell'ultimo secolo delle sfide di conoscenza non da poco. Abbiamo usato in maniera becera l'idea di alterità, l'idea razzista di alterità, l'idea politica più svilente del concetto di nemico, che è una cosa che purtroppo stiamo vedendo funzionare benissimo ancora oggi. Ma non è che non abbiamo imparato niente da tutto questo. C'è una larga fascia di riflessione, in realtà, che è nuova alla fine dei conti, sul fatto che la diversità è un valore. E questa è in sé abbastanza una novità a occhio. Perché storicamente è roba di pochi secoli. Si è fatta strada, un pertugio piccolo piccolo, in mezzo a devastazioni, in mezzo a guerre, in mezzo a violenze, in mezzo a ogni tipo di schifezza umana. Però quella strada se l'è fatta ultimamente. è molto giovane quella particella di complessità positiva. E io la tratterei bene, cercherei di tutelarla e di pensarla come una grande risorsa. Perché, come si vede, anche oggi ci vuole niente a disperderla nell'ambiente e a dimenticarcela. E a far ritornare fuori il peggio di noi con nazionalismi urlati e cose del genere. Quella cosa però è fatta di complessità. Il fatto che adesso vi siano culture o la possibilità di pensare a una cultura variegata di persone diverse tra di loro, che si rispettano al partire dalla diversità. Oh cavolo, questa è una novità. E bisogna tenercela stretta. E ritorniamo, ritorniamo al viaggio e incontriamo le parole di Friedrich Nietzsche. Io non scrivo solo con la mano. Anche il piede vuole essere sempre scrivano, sicuro, libero, audace. Mi accompagna correndo ora sul campo, ora sul foglio bianco. Le parole come i passi devono nascere in cammino. Le parole nascono in cammino anche per lei, a volte Alessandro Vanoli. Ah sì, decisamente sì. Se per cammino lo intendiamo il senso più lato, il viaggiare, dipendentemente dal fatto che si usino i piedi o meno, ci sono poche cose come il muoversi e lo sperimentare che danno la possibilità di dire le cose. Poi non è un assoluto, è occhio, ci sono persone che nella storia hanno potuto fare la stessa cosa standosene chiuse nel segreto della propria stanza, però alla fine, anche in quel caso lì, c'erano i libri a permettere il viaggio. C'è qualcosa che ci deve permettere di aprire la finestra e guardare oltre, perché se no non ce la facciamo. A starcene in casa davvero, noi non serviamo a niente. L'uso passivo dei nostri sensi è la cosa peggiore che si possa fare. E in questo senso, mi sento invece di dare ragione a Marco, perché forse sì, in questo senso l'impoverimento c'è, il rischio dell'impoverimento c'è. dove per l'impoverimento io vedo il rischio perlomeno di un uso passivo di noi stessi. Quello che ci fa guardare le cose da una finestra, sia elettronica o meno, non cambia molto, senza interagire. Anche il libro è un'interazione, perché obbliga a decodificare le parole, a leggere, ad applicare, ad approfondire, nel senso etimologico del tempo, termine, andare a fondo, che è l'esatto contrario di quello che accade quando invece guardiamo uno schermo, dove tutto ci appare contemporaneo, senza nessuna profondità. E naturalmente il viaggio aiuta molto di più. Ma il viaggio funziona bene se però le due cose sono in sincro, intendo la capacità di andare a fondo e la capacità di spostarsi. Se no viaggiare non serve a niente, neanche quello. Se si viaggia da turisti seguendo una bandierina, si può stare a casa. L'importante è mettersi in gioco, questo è il punto fondamentale. Accettare la sfida di non riconoscersi una volta che ci si è spostati. E in questo c'è anche un atteggiamento molto spirituale, Alessandro Lanoli? Per alcuni lo è sicuramente. Per alcuni lo è. Io francamente, che non sono arido, però forse sulla spiritualità ho un attimo di freno, forse può essere una sorta di freno interiore o di attenzione o di prudenza. Via, mettiamola così, che è più gentile e forse anche più vera. Non credo che sia necessariamente quello il punto. Si può tranquillamente sfidare il proprio logos, la propria testa, la propria intelligente, la propria razionalità giocandosi la carta dello stupore degli infiniti mondi possibili. Quello credo che sia una gran cosa, nello spostarsi e nel mettersi in gioco interiore. Poi, per chi ha i doni della spiritualità, è pur sempre un dono alla fine dei conti, credo che possa diventare un valore aggiunto, perché si possono cogliere relazioni che magari ha qualcun altro più arido. Alla ricerca comunque della luce in qualsiasi modo, ma la luce ci permette che con la luce Marco Vannini termina anche il suo intervento in questo libro, ma con la parola luce possiamo incontrare la parola sogno, perché il sogno è anche uno squarcio di luce nella notte o quando si dorme e Alessandro Vanoli in questo intervento nel libro Alti Orizzonti ci porta tra il viaggio e il sogno e sono due parole che spesse volte sono molto difficili da viaggiare e da far viaggiare insieme. Credo che sia un buon motore il sogno. Noi riguardo proprio a quello che dicevo prima, noi abbiamo cominciato la nostra esperienza di uomini immaginando, credo, sognando quello che non potevamo conoscere direttamente, ipotizzando cosa mi potesse essere al di là. Il viaggiare è anche un andare incontro al sogno, ai propri desideri, alla propria immaginazione, credo che nel modo migliore possa essere anche questo, lo spingersi oltre, anche banalmente quando ci mettiamo in cammino per andarsene in collina, a me capita, non che è chiaro che ti aspetti chissà che draghi o che esseri fantastici una volta uscito da Bologna insomma su via c'è la porrettana, ci sono anche le macchine, non si possono fare miracoli, però quando ti avventuri nel bosco magari verso sera quando le ombre si fanno un po' più dense beh insomma lo spazio per il sogno ti rendi conto che è ancora via e quello è il vero valore aggiunto del viaggio ed è anche soprattutto andare incontro all'incontro che non è solamente l'incontro con la persona che trovi sul percorso che sia lontano o vicino non importa ma come diceva lei poco fa anche semplicemente essere a contatto con il paesaggio di cui noi facciamo parte ma certo naturalmente anche quello è parte del gioco ed è la stessa cosa per quanto mi riguarda cioè dal punto di vista dello stupore o del sogno è la stessa cosa io credo che lì si giochi nell'incontro con una natura magari diversa o magari aspettata o non così chiara insomma si giochi una bella parte di ciò che il viaggio ci può regalare imparare a stare in cammino in mezzo alla natura è una parte considerevole della cosa il che non vuol dire è tornare agli origini tutte queste cose qua non ci credo affatto qualsiasi qualsiasi paesaggio che attraversiamo è un paesaggio fortemente antropizzato anche se fossimo nella foresta nera ecco sarebbe un paesaggio fortemente antropizzato da millenni e millenni di presenza umana ma non è quello il problema noi la natura la sentiamo credo sin dal momento in cui usciamo e ci riconnettiamo un po' con le luci col passare della giornata e credo che ci sia un aspetto in questo senso che faccia la differenza il rallentare non è che c'è un solo tipo di viaggio si può viaggiare tranquillamente con successo anche prendendo un aereo ma il viaggio fatto lentamente è una cosa invece diversa ed è un viaggio probabilmente ed è forse il viaggio che abbiamo perso di più quello cioè che ci fa muovere col ritmo dei nostri piedi cioè al massimo una trentina di chilometri al giorno di media intendo ecco quel tipo di spostamento è uno spostamento che non ci fa cogliere le differenze nell'aria nella luce nei suoni negli odori perché poco alla volta si trasformano con noi mentre ci muoviamo mentre ci trasformiamo per riflesso e questo tipo di cambiamento beh è qualcosa non so dire se naturale ma sicuramente è una cosa che ci riconnette davvero a un modo di essere che rischiamo di avere dimenticato ormai ma oggi e di cui abbiamo un gran bisogno abbiamo altro che un gran bisogno nonostante come lei dice oggi come oggi tutte le terre sono state tutte le terre sono state ormai scoperte ogni mare è stato scoperto eppure abbiamo ancora questa necessità questo desiderio è chiaro che proporre oggi il Grand Tour è improponibile però oggi che cosa si può scoprire guardi io credo di avere cominciato a scrivere esattamente per questo motivo no cioè a scrivere per il pubblico e dunque una volta tanto per me e non più per l'accademia come scrivevo prima quindi niente saldi scientifici credo di avere cominciato a scrivere perché la domanda è esattamente questa sono cito che di orizzonti ignoti non ce ne sono più e quindi è inutile pensare che so ai pirati dei Caraidi o a chissà quali mostri in qualche isola misteriosa perché purtroppo di isola misteriosa non ce ne sono più allora bisogna pur sempre fare qualcosa su Marte non ci possiamo arrivare non ancora e anche se ci potessimo arrivare in realtà ancora adesso richiede un training difficilissimo essere astronauti non è come imbarcarsi da ragazzini su una nave e partire come si facevano nel settecento visto che ci manca quindi questo cioè la possibilità immediata della scelta dell'avventura bisogna che troviamo un altro modo per far sì che la nostra fantasia si riaccenda perché quello è il motore della fantasia credo almeno almeno per me sicuramente ma credo un po' per tutti e l'unico modo che ci rimane in realtà è quello che poi a cui alludeva lei prima io credo e cioè le parole in realtà le parole sono in intima connessione col viaggio e quindi usare le parole vuol dire almeno dare di nuovo linfa alla fantasia e quindi non è solo leggere è ricreare i mondi che fa la differenza che non vuol dire per forza scrivere un romanzo vuol dire avere avere il tempo e la calma e lo spazio necessario per poter ricreare gli spazi dentro di sé e riaccendere dare vita e dare respiro ecco soprattutto un po' a quel sogno di cui parlavamo prima senza il quale facciamo veramente fatica credo ad andare avanti altri orizzonti il libro che abbiamo attraversato utilizziamo proprio questo verbo insieme con Alessandro Vanoni uno degli autori insieme con Marco Aime Duccio Demetrio Triano Favole Veragheno e Marco Vannini camminare conoscere scoprire pubblicato da Ute per i dialoghi di Pistoia ma prima di salutarci come sempre le chiedo che libro le fa compagnia in questi giorni guardi in questo caso è il libro di un amico è l'ultimo libro di Enrico Brizzi che è appena uscito e si intitola Il fantasma in bicicletta all'inseguimento di Giovannino Guareschi è stato pubblicato da poche ore praticamente da Solferino ed è ed è un bellissimo racconto di viaggio guarda caso il ripercorrere il viaggio che Guareschi dimenticabile autore di Don Camille Peppone ha compiuto in anni faticosi perché erano gli anni 40 attraversando la penura padana qualcosa di molto simile a un viaggio dietro casa ma qualcosa che portava con sé il senso di un'intera storia che il nostro paese stava attraversando perché il viaggio è anche quello quando lo fai bene è ben mirato che in realtà racconta la storia molto meglio di tante altre parole grazie davvero Alessandro Vanoli e buonasera grazie a voi buonasera grazie a voi grazie a voi